30 dicembre 1932. Nasce a Genova Paolo Villaggio, attore poliedrico e creatore del personaggio cinematografico noto ormai universalmente come il ragionier Ugo Fantozzi. Oltre ai personaggi comici, Villaggio recita la parte di Arpagone nell'Avaro di Molière ed è nel 1989 il prefetto Gonella nel film di Fellini La voce della luna. Muore il 3 luglio 2017.